vogliamo iniziare con una preghiera e daremo un paio di brevi annunci i traduttori per l'inglese canale numero uno italiano due, spagnolo tre, francese canale numero quattro, tedesco canale numero cinque, fiammingo canale 6, portoghese canale 7 e canale 8 cinese. Vi chiedo una cortesia, chi viene a parlare al microfono, sia come domande sia come discorsi, bisogna specificare in quale linguaggio si parla, dare il proprio nome e parlare lentamente perché i traduttori possano seguirvi quindi lingua, nome e lentamente. Grazie 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 Iniziamo con la preghiera, alziamoci tutti in piedi Grazie 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 a tutti. 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 Abbiamo potuto visitare i membri dell'ufficio della famiglia vincenziana. abbiamo potuto visitare 133 superiori generali, madri generali, presidenti internazionali personalmente in tutto il mondo, dovunque abbiano le loro case centrali in questi ultimi due anni e mezzo. Qui oggi siamo presenti 97 rami della famiglia vincenziana con circa 201 membri, inoltre abbiamo altri gruppi e collaboratori che partecipano anch'essi in questo incontro. Vorrei adesso introdurre il comitato esecutivo della famiglia vincenziana, i componenti che di fatto coordinano l'intera famiglia vincenziana nel mondo. Intanto per primo voglio ringraziare profondamente ogni componente del comitato esecutivo che anno dopo anno danno il loro tempo, si riuniscono durante l'anno per questa famiglia e questo movimento vincenziano, perché possano continuare a crescere ed espandersi. i membri fondatori del comitato esecutivo vincenziano dell'Aisee, l'Associazione Internazionale della Carità è stato il primo ramo che San Vincenzo ha fondato con la forte collaborazione di Santa Luisa di Mariac. Sono presenti anche membri dell'Aisee, che è presidente internazionale, rappresentante della famiglia vincenziana internazionale, le figlie della Carità, che hanno due membri del comitato esecutivo pure, la madre generale, sorella Catherine Epler, che non può essere fisicamente presente con noi, ma che lo è spiritualmente. E sorella Françoise Petit, che è presente qui, figlia della Carità, l'Assistente Superiore generale, la Confederazione Internazionale delle Solità di San Vincenzo De Paoli, il presidente internazionale Renato Lima Deo Rivera e il presidente del Dipartimento della Famiglia Vincenziana, Riccardo Tavares. Per la congregazione della missione ci sono io come Superiore Generale e il Consigliere generale, il reverendo Aron Gutierrez, i membri a rotazione dei vari rami, la Federazione Nordamericana delle Sorelle Nordamericana delle Sorelle della Carità, Sir Ray Gratzok, direttrice esecutiva, Sir Ellen Haynes, sorella della Carità di Leavenworth, Federazione di Strasburgo delle Sorelle della Carità delle Sorelle della Carità di Hildesheim, e Sir Barbara Flatz, sorella della Carità di Blams. fratelli della nostra Signora Madre della Misericordia, fratel Lorenz Obiko, della stessa congregazione, fratel Brueer Utema. La congregazione vincenziana, padre Sebastian Superiore Generale, padre Anto Vajamanil e padre Sebastian Mathew. Questo è il comitato esecutivo della famiglia vincenziana. Abbiamo anche l'ufficio della famiglia vincenziana. Ci sono tre membri che collaborano e lavorano con molto impegno. e uno dei risultati di questo impegno è l'incontro che adesso stiamo vivendo. Il coordinatore internazionale dell'ufficio della famiglia vincenziana è il padre Giosef D'Agostino. Un altro membro di questo ufficio, Signor Margarello, e padre Flavio. Padre Giuseppe Agostino è il coordinatore internazionale dell'ufficio della famiglia vincenziana fin dalla sua creazione in Filadelfia nel maggio 2015. Facilita il lavoro dell'ufficio della famiglia vincenziana per raggiungere i superiori generali, i presidenti internazionali della famiglia vincenziana, per supportare il lavoro dei consigli di coordinamento regionali e nazionali della famiglia vincenziana. L'ufficio della famiglia vincenziana coordina anche il quattrocentesimo anniversario del carisma vincenziano e le task force create dal comitato esecutivo della famiglia vincenziana. Padre Giuseppe Agostino facilita anche la commissione di collaborazione della famiglia vincenziana e l'iniziativa per Haiti della famiglia vincenziana. Grazie molte a tutti. Ancora buon pomeriggio. è un grande onore e privilegio essere qui con voi. Come Thomas ha già appena detto, negli ultimi due anni e mezzo abbiamo avuto l'onore e il privilegio di visitare così tanti di voi nelle vostre case. E quelle visite sono state molto commoventi e ci hanno portato meravigliose storie della vitalità, del nostro carisma che possiamo condividere profondamente e di questo ne parleremo di più domani. Vorrei presentarvi in particolare Sor Marta Clifford che è stata fin dall'inizio nel 2015 parte dell'ufficio della famiglia vincenziana in una varietà di ministeri dal lavoro con i bambini alla cultura, all'avanzamento e porta in tutto quello che fa un profondo amore ed impegno verso chi ha maggiori difficoltà. e sempre ci ricorda quello che si deve fare con i poveri perché ci ha messo la sua vita. è una benedizione averla nel nostro team e ci permette di vedere sempre nuove opportunità per mettere in pratica il nostro carisma. Flavio viene dalla nostra casa in Nicaragua e sta nell'ufficio dopo il primo anno di vita ha molte esperienze formazione provinciale economo e facendo un incredibile lavoro nelle missioni specialmente in Guatemala è stato fondamentale nella creazione di movimenti sociali in favore dei poveri. Per noi è una benedizione avere Flavio che è una parte del nostro team a Filadelfia e per chi non l'ha ancora conosciuto prendetevi l'opportunità di conoscerlo. Voglio anche portare la vostra attenzione a altre persone che sono stati molto importanti nel rendere possibile questo momento. Giovanna che ci ha dato un incredibile aiuto e non ci sarebbe stata possibilità di poter organizzare tutto quello che oggi stiamo facendo senza di lei. Per la prima volta stiamo sperimentando il live streaming attraverso Ozanam TV a cui siamo molto grati in particolare Adriano grazie perché sta dedicando il suo tempo e grazie a Renato perché si sono offerto per questo momento siamo molto indebitati verso i nostri traduttori che ci hanno generosamente offerto il loro tempo oggi Astorabdo Andreas grazie per il lavoro di tradurre questo evento come detto da Padre Tomas questo momento storico ed è in realtà il frutto di ciò che è cominciato nel 2017 in questa stessa città per celebrare i 400 anni di anniversario del nostro carisma in occasione di quell'evento abbiamo imparato tante cose chi siamo e chi speriamo essere e ancora stanno nascendo frutti dai semi piantati tra di noi da quell'occasione e vogliamo continuare a raccogliere i benefici di questo incontro abbiamo pubblicato un piccolo libro questo libro contiene bellissime immagini e tutte le presentazioni che sono state fatte in tutte le lingue nel corso del simposio quindi inglese spagnolo francese portoghese italiano polacco e altre sei quindi abbiamo copie in tutte queste lingue per i superiori generali o loro rappresentanti dietro la targhetta con il vostro nome c'è una card con il nome della vostra congregazione e il nome del rappresentante della congregazione che è qui questi libri sono davanti all'ingresso questi libri sono là e superiori generali con questa card possono prendere una copia del libro in una qualunque lingua che desiderano a partire da domani come un regalo che ci facciamo tutti noi e in più avremo anche copie addizionali da vendere tutte le informazioni le avrete domani però speriamo che cogliate questa opportunità perché vogliamo anche poter continuare a raccogliere i frutti dei semi seminati in questo simposio quindi compratene più di una copia fratelli e sorelle questo è certamente un tempo di speranza per noi un tempo in cui speriamo che la collaborazione ci possa far muovere più avanti dall'essere un nome proprio all'essere un verbo come famiglia vincenziana tutto ciò che facciamo fa parte della cura per la terra e delle persone per quanto è possibile ognuno di voi ha potuto ha potuto scaricare l'app dai app con tutti i documenti informazioni ulteriori partecipanti le congregazioni presenti e altri documenti chi non fosse ancora riuscito a scaricarlo si può far aiutare la sua margaret che ha individuato persone capaci che possono assistervi voglio voglio attirarvi l'attenzione su due cose particolari dove c'è più nell'angolo vedete in basso due categorie una è feedback e l'altro dice gallery vi invitiamo a offrirci riflessioni commenti man mano che l'incontro va avanti nel corso di questi cinque giorni è sufficiente premere feedback e scrivere domani quando faremo un lavoro di piccoli gruppi i piccoli gruppi diranno ciò che hanno riflettuto attraverso il tasto feedback la galleria contiene immagini quindi sentitevi liberi di farvi foto tra voi e di postarle in modo che tutti possano vederle se avete difficoltà fatecelo sapere difficoltà di carattere tecnico padre tomas e io vi abbiamo presentato molte persone ma adesso vi diamo cinque minuti per rivolgervi alle persone sedute intorno a voi e presentarvi gli uni con gli altri specialmente con quelli che già non conoscete di attraverso attraverso che già avvicinano un po' Grazie a tutti. 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 Agostino e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. ti invito sul palco. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. le conferenze. e a tutti. per tutti. e a tutti. e a tutti. Vincenzo. e a tutti. 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 la seconda. e tutti. e a 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 tutti. San Vincenzo. e a tutti. 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 e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti.